Buongiorno a tutti e benvenuti a Pala Derezza per la seconda gara che ha segnato la nostra squadra. Dopodiché la notizia di San Cristiano e la scubbita subita contro i campioni d'Italia del Portano, in mano del mondo che stasera è passato a legnato nella terza partita del torneo in Serie A nazionale. Ringraziamo qui sempre il pubblico di Pala Derezza e il nostro discorso, formiamo tutti un buon divertimento e precediamo la presentazione delle squadre. Per la notizia di San Mignano, con il numero uno, I di Cilina, un nuovo canotto, Caraviglio Vatto, un nuovo canotto, un vecchio canotto, numero 59 dell'ottima terra, numero 32 è pochi in cilindro, numero 33 è il cilindro, numero 33 è il cilindro, numero 35 è il camminato alto, numero 80 è il corpo del post, numero 40 è il salire da capire, numero 45 è il camminato alto, numero 61 è il camminato alto, numero 10 è il camminato alto, numero 51 è il camminato alto, allele d'oltre sono uno scoperte da coni. A con noi adesso un bel alzato, i ragazzi della Paracится Malamano, con il numero 38 è ilancello Francesco, numero 100 è la Cilina Argentina, numero 3 è il camminato alto, numero 7 è il camminato alto, Numero 12, Ronaldo in alto. Numero 12, Giancarco in alto. Numero 4, Polcana del Salto. Numero 19, Ricordi, Tempite. Numero 5, Marino, Bibbottato. Numero 2, Dario Papico. Numero 16, Salardo Andrea. Numero 22, Palmo di Staccio. Numero 10, Santi Ebe Loma. Numero 21, Bocano, Roberto Agnew. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.